Novità positive per i risparmiatori che un anno fa circa hanno visto svuotarsi. Il conto in banca è prosciugarsi, risparmi di una vita investiti in obbligazioni dopo il crack di Banca Etruria e di altri tre istituti di credito. In Umbria arrivano i primi tre risarcimenti per chi ha accettato la formula del rimborso forfettario. Recuperato l'80% del denaro, come ci ha spiegato Alessandro Petruzzi, presidente FederConsumatori Umbria, che sottolinea però come manchi ancora il regolamento per chi avesse scelto di intraprendere la strada dell'arbitrato. Ci sono novità positive per i risparmiatori che hanno visto svuotato un anno fa circa, il 22 novembre di un anno fa, i propri conti correnti e soprattutto le proprie obbligazioni. Sono arrivati i primi tre rimborsi di chi ha accettato il percorso forfettario. Credo che sono i primi in assoluto in Italia e questo è un segnale positivo perché è l'unica banca che ha, con il fondo interbancario, ricevuto indietro parte dei soldi. C'è un'altra parte negativa, purtroppo, che denunciamo e che non è stato ancora fatto e deliberato il regolamento per l'arbitrato. Quindi siamo di fronte a un percorso che prevedeva due gambe. Una funziona e sono arrivati i primi soldi. I primi tre obbligazionisti hanno nel loro conto corrente l'80% di quanto avevano perso. Non essendoci il secondo percorso che è l'arbitrato, e non comprendiamo perché il governo, perché i parlamentari, le istituzioni, facciamo un appello ai parlamentari umbri perché facciano sentire la propria voce, noi abbiamo situazioni allucinanti. La moglie o il marito hanno le condizioni previste dal forfettario sul reddito, l'altro coniugico o intestatario non ha le condizioni, però è evidente che se c'è il ristoro per uno dei due, con l'arbitrato ci dovrebbe essere anche per la seconda. La seconda gamma non può funzionare per inadempienza del Parlamento e del governo italiano. A noi qualche centinaia in Umbria, nell'intera situazione Banca Etruria sono migliaia. L'incontro con il Fondo Interbancario è avvenuto il 14 settembre, che è il soggetto che gestisce la parte di rimborso forfettario, era presente solo Feder Consumatori, Adconsum e Altro Consumo, quindi diciamo che chi rappresenta e ha le deliche sia noi. Quanti consumatori o quanti risparmiatori sono stati coinvolti? Non lo sappiamo, noi sappiamo le cifre che continuiamo a ripetere, che sono 5 milioni circa svuotati a Guagliotadino, uno e mezzo a Passignano, due qualcosa a sigillo, altrettanto a Fossato, Gubbio, Ponte Valleceppi è stato svuotato tutto il paese, le pratiche sono tantissime, perché tenga conto che nella stragrande maggioranza dei casi abbiamo conti cointestati e la domanda va fatta per tutti e due intestatari del conto, quindi sono tutte minimo raddoppiate.